fb fb 19 anni insieme con te veramente una favola buongiorno buongiorno benvenuti a tutti quanti sono 19 anni che siamo qua è veramente un piacere presentarvi questa tecnica attenti con magma perché veramente è da sballo per cui vi presento ancora questa colorazione la favola questa tecnica vengono i ceratri tre sfumature un rosso un tabacco un biondo e come potete vedere questa lucentezza questa performance del capello è veramente incredibile capelli lunghi lucidi bellissimi Emanuella è felicissima per voi è il massimo di esaltazione vi ricordo ancora che se vi è piaciuto mettete un like pollice in su anche Emanuella grazie e vi ricordo ancora che i look fb sono unici sono speciali fanno solo qualcosa di speciale vi ricordo ancora che se siete curiosi di provarli basta che ci contattate al nostro telefono e vi faremo una consulenza gratuita abbiamo per ognuno la propria tecnica per cui non esitate a contattarci buon pomeriggio a tutti ciao ciao un bacione ciao